buongiorno da Maria Luisa Barbaruno nello spazio social di vediamoci chiara oggi è con noi una nostra amica la professoressa Roberta Rossi buongiorno Roberta buongiorno buongiorno a voi sono contenta di rivedervi e buongiorno a tutti coloro che ci seguono allora Roberta oggi ho voluto eh parlarti averti qui su vediamoci chiara perché vorrei affrontare con te un tema che mi sembra eh molto importante per i nostri utenti ovvero quello dell'ansia di prestazione femminile se ne parla sempre di più e io vorrei capire esattamente o o comunque meglio di che cosa si tratta sì è un termine che si che fa pensare immediatamente alla sessualità maschile no invece è un qualcosa che riguarda anche le donne un po' perché l'ansia non ha genere quindi come dire può essere sicuramente eh a a a carico diciamo sia di di come si vive la sessualità sia per l'uomo e per la donna di cosa si tratta? Si tratta di eh comportamenti che proprio in base a questa ansia di ehm dare un certo tipo di risultato fanno sì per esempio che la donna finga l'orgasmo oppure che la donna ehm crei un blocco nella sessualità totale quindi non abbia un rapporto oppure che invece viceversa eh ci possa essere il discorso del dolore ovviamente non è che questo è pensato dalla donna è messo in atto volontariamente però l'ansia la paura il non sentirsi all'altezza o adeguata fa sì che poi ci siano appunto dei comportamenti di questo tipo. Bene quindi quali consigli possiamo dare a una persona che si renda conto di avere un'ansia di prestazione al femminile diciamo una donna che senza questa questa sensazione di essere ansiosa nei confronti della propria sessualità e delle proprie prestazioni? Sì soprattutto per il discorso dell'inadeguatezza no? Che sappiamo essere un tema che riguarda molto il femminile purtroppo. Allora eh chiaramente il consiglio è quello di rivolgersi a uno specialista in questo caso lo specialista è sicuramente il sessuologo quindi una persona che possa che abbia delle conoscenze e delle competenze per poter comprendere capire e affrontare insieme alla donna queste situazioni. Attenzione perché ovviamente noi su internet possiamo trovare miliardi di consigli di trucchi di strategie solitamente lasciano un po' il tempo che trovano questo lo dico anche un po' per la mia esperienza nel senso che spesso mi arrivano donne che hanno tentato quella strategia piuttosto che fatta l'altro e poi alla fine in qualche maniera non avendo affrontato nel modo più opportuno diciamo così questa eh questa forma di ansia è ovviamente arrivano a me e quindi insieme cerchiamo di fare un percorso per capire quindi in questo senso il suggerimento è rivolgersi allo specialista. benissimo benissimo Roberta noi ti ringraziamo eh per la grazie a voi e per il tuo tempo e ci vediamo in una prossima occasione grazie grazie a presto grazie a tutti grazie a tutti